Salve, bentornati a tutti. Oggi voglio farvi conoscere un nuovo modo, un rituale, per allontanare da sé le persone tossiche. Ci sono, può capitare, magari sul luogo di lavoro una collega o un collega difficile che vi toglie le energie o anche magari un vicino di casa, un'amica. Ci sono delle persone che veramente sono tossiche, ci tolgono le energie, ci tolgono le facoltà magari anche di riflettere o di trovare un po' di serenità. Queste persone vanno allontanate perché non ha senso farsi condizionare l'esistenza dalla loro presenza o dalla loro insistenza. Quello che vi farò vedere oggi è un modo molto semplice, ma è molto efficace. Non augureremo mai il male anche ai nostri nemici. Perché? Perché per la legge di reciprocità ci tornerebbe, credo, tre volte più forte di quello che voi lo avrete augurato o inviato. Ecco perché, dico sempre, non si devono fare ritualistiche, riti neri o augurando il male. Perché ti ritorna per leggi del karma, per tutto quello che che volete, sapete benissimo. Noi dobbiamo sempre solo augurare il meglio, così la persona che dà fastidio sia lontano perché lei sta meglio e noi siamo sereni. Questo è in qualsiasi situazione. Ora, nel nostro caso non gli augureremo nulla. Non è che gli chiediamo vai a fare questo o quell'altro, ma nella invocazione che faremo, chiederemo che a lei non succeda assolutamente nulla di grave. Per iniziare questo rituale ci serve un piccolo contenitore, piccolo come sia diciamo, un contenitore che non è trasparente, dunque non deve essere di vetro. Io ho queste boccettine qua che semplicemente sono degli integratori che compro al discount addirittura e quando ho finito le boccette tolgo le etichette e mi ritrovo con dei contenitori perfetti per tanti tipi di lavori. Servono due foto, la foto nostra se vogliamo allontanare la persona da noi e la foto della persona che vogliamo giustamente far uscire dalla propria vita. Ora diciamo che questa è la foto di una della persona e questa la nostra. cosa dobbiamo fare? Allora questa è la nostra foto, mettiamo così, dobbiamo scrivere sul retro della foto nome, cognome e data di nascita. Poi naturalmente la stessa cosa dietro alla foto dell'altra persona, nome, cognome e data di nascita. Oltre a il barattolo e alle foto serve dell'acqua di sorgente e ora mi direte ma dove trovo io l'acqua di sorgente? Io vivo in città qua là, semplicemente nell'acqua minerale cari. Io utilizzo l'acqua minerale dove si sa che è di sorgente, naturale e va benissimo. Vi premetto ogni rituale funziona se noi siamo convinti di quello che facciamo. Noi dobbiamo essere convinti della riuscita del nostro rituale, sapiamo di farcela, altrimenti giustamente non riuscirà mai convinti. Va bene? Ora prendiamo le due foto e le mettiamo spalle a spalle, dunque foto foto, contrario contrario, una di qua e l'altra di là, devono essere contrarie. Poi pieghiamo il fogliettino in quattro. E lo infiliamo dentro al barattolo. Ci mettiamo l'acqua, io adesso farò finta, mettiamo l'acqua e infiliamo il fogliettino. E mentre noi infiliamo e mettiamo l'acqua, dobbiamo recitare un'invocazione molto semplice. La dobbiamo recitare tre volte. Ascoltate bene, preparatevi e fate veramente con calma, lentamente, mettendo l'acqua dentro al contenitore con le due foto rovesciate, spalla a spalla. Noi diciamo, io mi auguro che tale persona, XXX, nome, cognome, data di nascita, sparisca dalla mia vita e dite il vostro nome e vostra data di nascita. che la smetta di importunarmi e che la sua influenza sia imprigionata nel ghiaccio senza che nessun male gli succeda. una volta, una volta, seconda volta, io desidero che tale nome, cognome e data di nascita sparisca dalla mia vita, io così, 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 e che lei smetta di importunarmi, che la sua influenza sia imprigionata nel ghiaccio senza che nessun male gli sia fatto. Ricordatevi sempre di non augurare il male, di chiedere che non gli succeda nulla. Lo recitate una terza volta, dopodiché chiudete il contenitore, lo andate a porgere nel congelatore e mentre lo infilate nel congelatore, dovete dire che il mio augurio si realizzi o che il mio desiderio si realizzi. Ed è finita. Tutto qua. Così, congelando la persona, vedrete che piano piano si allontanerà da voi. Questo barattolo deve rimanere tre giorni nel congelatore. Dopo tre giorni, al quarto giorno, lo andate a riprendere, lo lasciate all'aria aperta e piano piano vedrete che si scongelerà. Quando sarà tutto scongelato, lo riaprite. Buttate l'acqua, magari nella tazza del water, perché ricordate che tutti i riti che vanno eliminati, quando sono finiti, devono andare via lontano e devono andare via in purezza. Perciò, mandandola nell'acqua del water pulito, questa va via lontano. Va a finire in un altro fiume o non sappiamo, insomma, va lontano. Buttate l'acqua nella tazza del water, poi prendete il foglio che sarà bagnato, lo stropicciato e incominciate a strofinarlo, così, nelle vostre mani. Lo fate piano, piano, finché vedrete si sgretolerà, si sgretolerà tutto, sarà a pezzettini, a rollicini, sempre sulla tazza del water e fate cascare tutti i pezzettini nel water. Quando sarà tutto sbricciolato, tirete l'acqua e così se ne andrà tutto. Tutto, l'acqua, il rito, le foto, va via tutto. È un rito molto forte. Funziona veramente. Poi, se vi rendete conto che la persona si sta allontanando, ma non ancora abbastanza, lo potete rifare dopo tre settimane. Premetto che il rito va fatto sempre a luna calante. Per allontanare qualcuno deve essere luna calante. Vi ringrazio per essere rimasti fino adesso. Spero che questo piccolo rituale vi possa aiutare e ci risentiamo alla prossima. Cercherò sempre di darvi delle piccole astuzie così gratuitamente. Un abbraccio da Alba.